da 170 anni noi di Cassa Depositi e Prestiti investiamo il risparmio degli italiani nel domani del paese noi di Cassa Depositi e Prestiti siamo con l'Italia oggi più che mai Ehi impara dal passato decidi dove andare apri quella porta accendi il tuo motore allaccia la cintura stringiti al volante e vieni via con me e Grazie a tutti 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 Buongiorno, benvenuti a tutti a chi è qui dal vivo al Palacongressi di Rimini e chi ci segue a distanza in Italia e dall'estero Siamo al secondo giorno di meeting il secondo appuntamento di un ciclo che abbiamo voluto dedicare al tema sostenibilità e sussidiarietà continueremo fino alla fine della settimana sempre con degli appuntamenti quotidiani oggi lo facciamo parlando di Green Economy Green Welfare quindi io andrei immediatamente a salutare i nostri ospiti iniziando da Paolo Vestrucci CEO di NIR che ringrazio per essere qui con noi in presenza come si dice saluto e ringrazio anche i nostri ospiti collegati Marco Brun CEO di Shell Spero sia collegato Sì, lo vediamo collegato Buongiorno Saluto Massimo Bruno responsabile sostenibilità e affari istituzionali di Enel Buongiorno e saluto Ermete Realacci presidente della fondazione Simbola Buongiorno Ermete Buongiorno Ermete oggi ci ha anche omaggiato di una maglietta abbinata al titolo dell'incontro quindi ha vinto il primo intervento del nostro appuntamento io veramente solo una battuta per continuare quello che accennavo poco fa abbiamo voluto dedicare appunto una serie di appuntamenti sul tema sostenibilità e sussidiarietà non è la prima volta che se ne parla al meeting in questi anni certamente sono temi che oggi ricorrono in maniera molto più frequente anche nel gergo e nella quotidianità dei discorsi di tutti noi vogliamo e abbiamo l'occasione di approfondire di che cosa si tratta di cosa si tratta perché il più delle volte sono temi magari fraintesi oppure temi presi solamente per alcuni aspetti ecco io sono molto contento di avere gli ospiti che abbiamo con noi oggi in studio collegati perché sono le persone tra le persone più indicate a poter approfondire abbiamo appunto dato come titolo di questo appuntamento Green Economy e Green Welfare io vorrei dare per primo la parola a Ermete Realacci appunto presidente di Simbola Ermete Realacci si è sempre occupato di questi temi lo ha fatto in particolar modo con la fondazione Simbola con la quale assieme anche a Union Camere ha steso diversi rapporti diversi approfondimenti su questi temi ma chiederei a lui Ermete appunto di aiutarci a entrare nel merito di che cosa stiamo parlando quali sono effettivamente effettivamente gli ingredienti sul piatto e da perdonatemi ignorante in materia cercare di capire assieme a voi dal dialogo di oggi com'è possibile passare dalle parole ai fatti di una certa attenzione anche al modo di vedere il mondo e la realtà noi abbiamo come titolo del meeting privi di meraviglia restiamo sordi al sublime quindi sono certo che anche questi aspetti abbiano a che fare con quello di cui parliamo oggi Ermete grazie ancora per essere qua con noi è sempre un piacere non è la prima volta e penso non sarà l'ultimo e sì assolutamente sì perché poi per venire al tema della meraviglia una delle cose chiave è provare a guardare il mondo e il nostro paese in particolare con occhi diversi noi italiani siamo un po' criptodepressi siamo capaci di vedere i nostri mali ma non li affrontiamo ma siamo incapaci di vedere i nostri punti di forza allora quando si parla di Green Economy un po' dirò qualcosa di più specifico sull'energia visto l'interlocutore si parla in realtà di un qualcosa che è molto trasversale ecco tu scicavi il lavoro che noi facciamo ogni anno con Union Camere sul censimento delle imprese italiane che si occupano di Green Economy è un censimento che ha dei risultati importanti nel senso che grossomodo negli ultimi cinque anni un terzo delle imprese manufatture italiane complessivamente sono 432 mila le imprese che hanno fatto investimenti che hanno a che fare con l'ambiente cioè con risparmio energetico fonti rinnovabili recupero dei materiali innovazione di processo di prodotto queste imprese sono già oggi una parte avanzata delle nostre imprese perché sono quelle che esportano di più innovano di più producono questo è in realtà spesso ignorato perché tante volte si pensa alla Green Economy come il soldo dell'avvenire in realtà guardandoci intorno la Green Economy che in Italia significa anche innovazione design bellezza è già oggi un punto di forza notevole delle nostre filiere produttive potrei fare molti esempi tu peraltro li conosci ne cito solo uno pochi sanno che il nostro paese è di gran dunca la superpotenza europea delle problemi circolari questo non per le leggi non per i decreti in qualche caso abbiamo fatto provvedimenti avanzati ma nella gran parte dei casi sono i promosomi e l'antropologia e come è fatto il sistema produttivo italiano noi siamo un paese povero di materia di crime abbiamo dovuto imparare a usare quella grande fonte di energia rinnovabile non inquinante che è l'intelligenza umana questo fa sì che oggi noi recuperiamo nei cicli produttivi il doppio delle media delle materie prima dell'Europa molto più dei tedeschi e questo processo che avviene in tutti i settori ci fa risparmiare ogni anno 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 58 milioni di tonnellate di emissione di CO2 quindi è un pezzo già della nostra economia e attraverso tutti i settori se noi andiamo a vedere quello che accade nel legnoarredo nelle ceramiche nella meccatronica nell'agricoltura scopriamo che l'Italia ha praticamente sempre performance più avanzate degli altri polizzi io cito spesso una cosa che mi diverte diciamo fra i settori in cui l'Italia è forte nel mondo c'è pure delle giostre noi siamo dei grandi costruttori di giostre i bambini di Pechino di Shanghai di Copenhagen di Con Island giocano sui giostre italiani le nostre giostre vincono tra virgolette perché sono più belle ma anche perché consumano meno energia non gliela ha detto nessuno di costruttori di giostre hanno solo capito che si poteva fare l'hanno fatto e anche attraverso questa strada noi siamo più competitivi ad esempio rispetto ai costruttori di giostre tedeschi questa dinamica della nostra economia andrebbe assecondata favorita e ci può aiutare anche in questa fase perché se vogliamo uscire alle crisi noi dobbiamo cambiare anche la maniera di leggere la realtà a partire da quello che già noi siamo da questo punto di vista devo dire che a volte sono sconcertato dal dibattito che c'è perché io penso che l'Italia si è mossa molto bene nella pandemia rispetto alla situazione difficilissima che avevamo si è mossa molto bene in sede europea abbiamo ottenuto un risultato clamoroso perché l'Europa ha cambiato rotta e abbiamo a disposizione una quantità di risorse enorme che non avremo probabilmente mai più diciamo ma è balbetta sulle cose da farsi perché l'Europa ha detto che questa grande quantità di risorse andranno investite in tre settori sanità coesione transizione ecologica green inutile chiamiamolo un po' come vogliamo e digitale beh c'è poco di questo nei progetti di cui parliamo l'altro giorno lo dicevo anche ieri in un incontro proprio al meeting sono al libido quando ho visto che il ministro De Micheli ha detto che inviera il progetto del tunnel sotto lo stretto a recovery found ma l'ha pagata tutte mi verrebbe da dire perché quel progetto non c'entra nulla con le direttive europee e non ha nessuna possibilità di andare in porto perché è un progetto che richiederà tanti anni mentre noi quei soldi li abbiamo investiti da subito investiti da subito e dico qualcosa sull'energia in tutti i settori perché appunto usare bene l'energia è un fattore competitivo in tutti i settori ma in particolar modo nel campo dell'energia qui anche noi abbiamo dei punti di forza e dei punti da cambiare io considero l'ener un punto di forza nel paese l'ener ha cambiato moltissimo rotta negli ultimi anni e oggi è un mercato molto frammentato però è il più grande produttore di fonti di molarmi nel mondo e ha assunto l'obiettivo di azzerare di lanciare le emissioni di CO2 entro il 2050 che è l'obiettivo che si è dato anche in Europa è un obiettivo difficile per un'azienda energetica ovviamente lo è per la Shell ancora più che per l'ener però quella è la strada in cui andare la Shell ha preso degli impegni credo di installare 50.000 megawatt di fonti rinnovabili entro il 2030 e di ridurre l'estrazione del 40% però insomma la direzione in cui andare è quella sapendo che anche qui c'è un mondo in movimento nulla è facile nulla ce l'è regalato ma voglio fare solo due esempi uno che conosci uno lo conosci bene anche lui pensiamo al nucleare noi abbiamo stato anni con la classe dirigente italiana tutti non è proprio una dei politici che dicevano come siamo sfortunati che non abbiamo un'azienda come l'elettricità de France che grazie al nucleare è messa meglio della nostra Enel bene adesso il nucleare è morto nel mondo cioè appartiene c'è quel bellissimo verso di Fossardi che dice le idee che vanno a morire senza farci un saluto nell'occidente è morto il nucleare e nessun francese che sa fare dei conti non cambierebbe di corsa l'elettricità de France con l'Eno ma questa dinamica è una dinamica non scontata non semplice con grandi differenze in giro per il mondo che dà valore che crea ricchezza che vale per tanti settori un ultimo aneddoto che vi lascio se pensate a questa transizione che dobbiamo fare a me colpisce molto la questione del carbone Trump ha condotto le scorse campagne elettorali non so questa quale parola d'ordine avrà avendo come una delle parola d'ordine principale il rilancio del carbone americano se voi andate sulla rete trovate tante manifestazioni oltre al muro con il Messico eccetera tante manifestazioni con centinaia di persone che hanno cartelli come accade negli Stati Uniti con scritto Trump Prince Corpo cioè Trump scava forse ci ha preso i voti perché poi la gente come si può prendere i voti sull'invasione delle migrazioni però il consumo di carbone da quando c'è Trump è calato moltissimo negli Stati Uniti hanno chiuso 50 centrale a carbone e nell'ottobre scorso tutti i nuovi impianti di produzione geolettrica negli Stati Uniti sia negli Stati democratici che negli Stati repubblicani erano alimentati da fonti rinnovabili questo non perché ci fosse un diritto ma perché gli americani sono pragmatici e anche il governatore repubblicano se gli costa meno la fonte rinnovabile usa la fonte rinnovabile allora c'è un mondo in movimento che dobbiamo saper leggere abbiamo in Italia risorse e tecnologie per essere protagonisti di questa sfida aggiungo che questa è una sfida che può ridare forza e carisma all'Europa l'Europa può uscire dalla crisi battendo un culo e questo terreno del rapporto tra green economy e sussidiarietà sostenibilità e sussidiarietà è un terreno in cui l'Italia ha molto da dire al mondo grazie Ermete proseguirei a questo punto come al solito Ermete Relacci è capace di condire un aspetto anche più culturale di fondo ad una serie di provocazioni e di pragmatismo di cui certamente abbiamo bisogno chiederei prendendo spunto da una delle provocazioni appunto di Ermete Relacci cioè dobbiamo leggere la realtà a partire da quello che siamo chiederei a Marco Brun di aiutarci anche in questo approfondimento dentro uno spaccato che appunto già Ermete Relacci ci ha ampiamente introdotto grazie grazie dottor Forlani spero mi sentiate sì innanzitutto vorrei rivolgere un saluto a tutti i partecipanti questo importante questo importante meeting e ringraziare per l'invito che mi avete esteso per parteciparvi perché io credo che il meeting per la sua storia la sua credibilità sia il giusto il posto giusto per parlare in modo serio ma allo stesso tempo comprensibile Ermete ce l'ha dimostrato di questioni complesse infatti oggi si parla molto spesso di transizione energetica di green economy di economia circolare sui social sui media ma e questo è sicuramente un bene ma dobbiamo evitare la tentazione di pensare che questi siano argomenti semplici la cui soluzione in particolare sia proprio dietro l'angolo e sia sufficiente accendere e spegnere un interruttore per passare diciamo e transitare attraverso questa transizione così importante per cui grazie per l'opportunità come ricordava anche Ermete credo ci troviamo all'inizio di una delle più gravi crisi del paese dal secondo dopo guerra ma come tutte le crisi e come anche l'etimologia della parola crisi ci insegna ogni crisi è un momento di scelta di decisione forte e in quanto tale rappresenta sia un pericolo sia un'opportunità e a proposito di decisione forte mai come ora credo si avverta l'esigenza di un futuro condiviso di una visione di un'idea di paese in grado di unire e convogliare forze e energie verso un obiettivo comune questo a mio avviso è il primo e più importante problema manca purtroppo una visione un'idea comune di futuro con risultato tra l'altro l'ha ricordato proprio ieri Mario Draghi che a prevalere è una sorta di egoismo collettivo che perde di vista quello che è e resta lo scopo principale di ogni buona politica che è il bene comune poi ci sono le questioni ataviche che il nostro paese ha questione che la crisi del covid non ha fatto altro che evidenziare che portare di più ancora sotto gli occhi di tutti la complessità la burocrazia i tempi certi o incerti e il mancato rispetto delle decisioni prese per timore di essere impopolari da qui l'opportunità che questa crisi ci offre affrontare risolvere una volta per tutte i problemi che hanno frenato per anni il motore di questo paese partiamo da un dato di fatto l'energia è cruciale per la vita di ogni paese e questo l'abbiamo visto anche durante la crisi il lockdown con l'energia siamo riusciti comunque a vivere nelle nostre case a collegarci a far funzionare gli ospedali far funzionare i mezzi di soccorso senza l'industria energetica l'isolamento infatti avrebbe significato un repentino balzo indietro immaginiamo che tutta l'industria energetica durante il lockdown si fosse fermata sarebbe stato un grave problema a maggior ragione però il settore energetico avrà un ruolo ancora più cruciale nella ripartenza da qui occorre però un punto di chiarezza la pandemia non può e non deve essere una scusa per rallentare la transizione energetica anzi se possibile oggi più di ieri è necessario accelerare e a tal proposito mi piacerebbe ricordare due parole che del discorso del santo padre ai tom manager delle compagnie energetiche proprio lo scorso anno e i due passaggi sono uno legato al fatto che il santo padre disse il tempo stringe smettiamo di esplorare cosa può essere fatto ma iniziamo concentrarsi su cosa occorre che venga fatto da oggi in poi subito e la seconda cosa che disse fu attenzione alla gestione dell'impatto sociale occupazionale del passaggio a una società a bassa emissione di carbonio deve essere gestita bene e se gestita bene può generare nuove opportunità ma se gestita male può creare problemi come ci ricordava Ermete prima la mia società il gruppo Shell sin dall'inizio ha dato pieno appoggio alle conclusioni della COP21 di Parigi del 2015 e tra l'altro ha recentemente aggiornato la propria strategia puntando sulla neutralità carbonica al 2050 abbiamo costituito una nuova divisione che spinge molto sulle rinnovabili in Italia abbiamo fatto due acquisizioni importanti giusto per darvi un'idea siamo tra i leader del mercato delle colonnine di ricarica abbiamo già oltre 170.000 punti di ricarica in Europa siamo attivi nell'accumulo domestico e nella produzione fotovoltaica però venendo alla situazione italiana purtroppo c'è un però dobbiamo siccome il settore energetico è uno dei pochi settori in grado di coniugare ingenti investimenti creazioni di posti di lavoro ricerca sviluppo indotto è indispensabile assicurare un rilancio del comparto che è in pesante sofferenza il che significa spingere sulla realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche che sono necessarie alla produzione trasformazione e trasmissione o distribuzione dell'energia un recente studio in confindustria energia ha quantificato in oltre 110 miliardi gli investimenti che le società energetiche possono mettere in campo in fretta ma purtroppo oggi una grande opera in Italia cioè un'opera che prevede un investimento superiore ai 100 milioni di euro impiega in media quasi 16 anni per vedere la luce di cui purtroppo 8 anni sono dovuti a inerzia a inerzia burocratica per cui è urgentissimo semplificare i processi autorizzativi altrimenti gli investimenti non si riescono a fare faccio un esempio concreto il piano energia clima prevede di portare una capacità fotovoltaica la capacità fotovoltaica del paese da 20 a 50 gigawatt al 2030 quindi un aumento di 30 gigawatt ovvio che per un balzo di questo tipo non sono sufficienti i pannelli fotovoltaici sui tetti ma servono anche e soprattutto grandi impianti a terra ma di questo passo secondo la nostra stima al 2030 avremo non più di 6 gigawatt aggiuntivi installati invece dei 30 gigawatt indicati nel piano nazionale a mio avviso e qua mi avvio le conclusioni i problemi che abbiamo davanti richiedono il superamento di una visione diciamo tradizionale regolatoria legislativo ci vuole troppo tempo a cambiare le leggi e regolamenti in Italia quel che serve è una rivoluzione è uno shock o il paese rischia di avviare di 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 su un una crisi non avvi a u av w al come come è stata definita come è stata ipotizzata ma una crisi a tubo cioè senza fondo e senza punto di rimbalzo ma per attuare una cura shock con riforme legislative ci vogliono anni abbiamo però un esempio un esempio sotto gli occhi di tutti di cui abbiamo parlato sia nelle nostre case che che con gli amici o sui media ed è l'esempio del Ponte Morandi il commissariamento del Ponte Morandi un esempio che dimostra il livello di efficienza che possiamo raggiungere la metodologia di lavoro in un'emergenza deve essere quella estendiamo questa esperienza ad altri settori chiavi ad altri settori chiavi penso alle energie rinnovabili per esempio abbiamo bisogno di farle abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a farle al 5G o ai porti italiani che possono aiutare il paese a risollevarsi e portiamo avanti poi nel contempo le riforme regolatorie legislative che sono utili che saranno necessarie ma ripeto e concludo non possiamo aspettare è tempo di agire grazie torniamo a questo punto in studio perché mi sembra che gli ingredienti siano davvero già tanti alcune parole chiave che tra le tante ho tratto sono sicuramente la parola visione la parola prospettiva la parola procedure e l'accenno anche finale riguardo al fatto della capacità di mettere a terra dei progetti e quindi tante volte la facile deriva del commissariamento per riuscire ad arrivare al dunque Vestrucci si occupa con la sua società di ingegneria appunto di tanti di questi aspetti quindi avrei piacere che continuasse anche lui lo ringrazio nuovamente per essere qui in questo dialogo grazie a lei grazie a lei dottor forlato sì vorrei proprio partire dall'esperienza della società di ingegneria che ho contribuito a fondare di cui sono responsabile l'Iniere Ingegneria che è una società di consulenza tecnica sul tema della sostenibilità e dell'ingegneria dei sistemi quindi su temi abbastanza inerenti direttamente inerenti agli argomenti che stiamo trattando e vorrei usare la nostra esperienza anche per uscire dal pericolo della retorica tentando di comunicare come è cambiato il nostro lavoro nel corso degli anni noi siamo partiti negli anni 70 dove la parola ambiente praticamente non era usata si parlava di inquinamento e vigeva l'approccio cosiddetto comando e controllo cioè tento di normare il più possibile lo scarico l'emissione l'uso del suolo eccetera eccetera e di controllare il rispetto di questi limiti siamo partiti da questa impostazione molto riduttiva della tematica ambientale negli anni 80 però si è sviluppato sempre di più un approccio più allargato meno settoriale meno specifico con l'ingresso delle direttive europee per esempio quella sulla valutazione di impatto ambientale o sull'industria rischio di incidente rilevante della cosiddetta direttiva servizio e altri procedimenti di questo genere si è allargato la tematica dell'inquinamento essenzialmente dell'inquinamento alla tematica ambientale compare la parola ambiente e la parola ambiente compare tentando di allargare di considerare più fattori la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale porta diversi stakeholders diremmo oggi allora non si usava questo termine a partecipare al processo decisionale non ci sono solo più degli aspetti squisitamente tecnici o delle logiche comando e controllo ma c'è un tentativo di un'assunzione di responsabilità più globale nei confronti della tematica ambientale passando il passaggio successivo è quello del sviluppo sostenibile alla fine degli anni 80 e poi con gli anni 90 si giunge a questa consapevolezza questo approfondimento importante per cui la tematica ambientale viene vista come una realtà di sistema dove tutti gli aspetti scarichi emissioni quello che si vuole vengono mantenuti certamente ma messi in relazione in un approccio più globale più significativo e di lì che parte il grande sviluppo che si ha poi con la conferenza di Rio con Chioto con le varie cop è stata citata quella di Parigi ce ne sono state 25 cioè parte una diffusione della tematica a livello mondiale veramente importantissima accanto a questo vorrei dire si arriva almeno nell'esperienza professionale per come ci siamo relazionati con i problemi non solo noi ma anche le realtà tipo le nostre devo dire si arriva ad una grande stanchezza fino tuttora domina una grande stanchezza nella impegni che si assumono che poi si sa dall'inizio che sarà difficile mantenere uno scontro molto rigido tra negazionisti e allarmisti si giunge ad una rigidità di stallo nonostante questa grande esplosione e diffusione di interessi sul tema della sostenibilità voglio leggere una voglio citare una frase di un recente articolo del cardinal scola scritto durante la pandemia su oasis si riferisce all'anniversario al quinto anniversario della pubblicazione della laudato che fotografa bene a mio parere questa situazione che chiamo di stanchezza dice da una parte la posizione più diffusa da una parte c'è la posizione più diffusa che è quella del dominio che si relaziona all'ambiente secondo una logica che potremmo definire predatoria o di sfruttamento cioè i negazionisti ad esclusivo vantaggio dell'attuale generazione dall'altro una sorta di sacralizzazione altrettanto indiscriminata dell'ambiente che propugne un cosmocentrismo che alla fine rivendica pari dignità per ogni forma di vita dimenticando lo specifico umano solo superando queste opposte posizioni l'uomo può pensare ad un rapporto con il pianeta responsabile e capace di cura ecco queste due posizioni fotografano bene la stanchezza a cui accennavo prima e dicono la situazione macroscopicamente reperibile almeno nella mia esperienza nel mondo economico e nella società civile però c'è una novità c'è una novità imprevista forse ma cinque anni fa arriva l'ha laudato sì irrompe sulla scena qualcosa di nuovo che a detta di molti salvò la copp di Parigi irrompe questa enciclica papale che è un'enciclica ambigua potremmo dire tra virgolette perché ci si può chiedere è un documento politico è un insieme di tesi scientifiche è aiuto aiuto un qualche cosa di religioso è qualche cosa di assolutamente anomalo imprevisto e non ideologico che viene che fa il suo ingresso sul mondo della sostenibilità e ridà fiato alla sostenibilità la vera novità a mio parere è che la sostenibilità comincia a respirare di nuovo ad avere qualche cosa che la fa uscire dallo stallo in cui si stava arenando anche il nostro lavoro tecnico recepisce un beneficio di questo genere qual è questo modo con cui la laudato si rilancia la sostenibilità è quella dell'ecologia integrale è quella della sostenibilità integrale e cioè il Papa non fa un discorso di tipo appunto ideologico di contrapposizioni ma tenta di sviluppare una proposta in cui tutto viene rimesso in relazione comincia ad essere riproposto come nell'esigenza di scoprire i nessi profondi che leggono le varie cose l'economia l'ambiente naturale la società tre elementi che già in diversi diverse fonti avevano avevano messo sotto sotto l'aggettivo sotto il termine di sostenibilità sostenibilità economica sostenibilità sociale sostenibilità ambientale il Papa aggiunge la persona come quarto elemento tutti questi fattori costituiscono degli elementi tra i quali occorre necessario ricostruire in essi riscoprire i legami riapprofondire ciò che rende l'uno in funzione dell'altro quando Greta urla ci avete rubato il futuro dice sicuramente qualche cosa anzi si riferisce esplicitamente al cambiamento climatico ma dice attraverso quello anche un furto una carenza di senso che la mia generazione sta privando alle generazioni successive più generale non solo sull'aspetto cambiamento climatico ma sull'aspetto di relazione con il mondo con la natura con il senso della vita l'incapacità di costruire di riconoscere in essi è quello che sta dietro al grido di Greta e così in modo apparentemente scorrelato perché se ci pensate bene la relazione che c'è tra la sostenibilità e la pandemia la sostenibilità ambientale almeno la pandemia non è così ovvio eppure noi stiamo uscendo speriamo dall'esperienza della pandemia con un nesso una sottolineatura un rilancio della sostenibilità fortissimo perché è proprio la sostenibilità integrale che può dare questa possibilità di riapprofondire di rimettere in discussione tutto di reiniziare non solo di ricominciare abbiamo tantissimi strumenti oggi abbiamo gli strumenti dell'eco design del life cycle assessment dei piani per il cambiamento per l'adattamento climatico gli strumenti dell'economia circolare abbiamo un'infinità di norme di cose robuste ormai consolidate sull'ambiente sull'energia sulla responsabilità sociale abbiamo una quantità di metodologie oltre che gli strumenti tecnologici che le rendono applicabili a disposizione però c'è qualcosa che ancora è necessario perché il nuovo comincia a manifestarsi e riprendo a questo proposito un passaggio della Laudato Si appunto che dice non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire delle leadership che indicano le strade abbiamo quindi molti strumenti ma abbiamo bisogno di molti esempi abbiamo bisogno di esperienze che rendano chiaro il percorso per cui possa venire fuori questa posizione culturale questa cultura necessaria per affrontare la crisi per affrontare la trasformazione della società giustamente questo meeting io ho molte aspettative da questo meeting perché il nesso tra sussidiarietà e sostenibilità è un nesso probabilmente fondamentale forse proprio la strada principale per tracciare questa strada verso la costruzione il far emergere il far fiorire la cultura necessaria per affrontare la crisi quindi è molto opportuna la sfida che lancia questo meeting e che ricordava il dottor Forlani all'inizio chiudo ancora con un'esperienza legata al nostro lavoro negli ultimi anni pochissimi anni 4-5 anni vediamo fiorire nelle aziende di tutte le grandezze una domanda di consistenza sulla propria identità sulla propria mission sulla propria che è in grado di influenzare le visioni molto nuova c'è sul tema della sostenibilità c'è una viene veicolata una domanda importante di revisione complessiva perché tutto è legato tutto è connesso delle nostre attività produttive dell'amministrazione pubblica delle nostre organizzazioni questo è un compito interessantissimo molto promettente bisogna avere la pazienza non capita per bacchetta magica non capita tutto in una volta bisogna avere la pazienza e la determinazione contemporaneamente di farla crescere penso che il meeting da questo punto di vista sia un contributo possa dare veramente un contributo importante grazie a Paolo Vestrucci che ha ulteriormente allargato il perimetro diciamo del dialogo ma approfondendolo ancora a Massimo Bruno a questo punto la parola Massimo è esperto si occupa di questi temi lavora in questo ambito da tanti anni chiederei quindi a lui di proseguire in questo percorso che mi sembra appunto assuma sempre più dei contorni anche di una profondità importante intanto buonasera a tutti grazie dell'invito arrivando per ultimo mi risulta un po' più facile perché prendo alcuni spunti e cerco di andare un pochino più a fondo alcune cose che mi hanno colpito tanto ringrazio Ermete sia per le parole che per l'Enel ma soprattutto perché è una cosa che ha detto quella sugli italiani cioè l'autocritica che noi ci facciamo il nostro paese è all'avanguardia in tanti settori in particolare nel settore energetico è all'avanguardia ma noi rischiamo sempre di guardare in negativo e non ci sforziamo di guardare in positivo in quello che facciamo ad esempio nessuno sa che è l'unico paese che ha i contatori dell'energia elettrica di seconda generazione paesi che noi riteniamo molto più evoluti come la Germania non ne hanno non sono neanche ancora quelli di prima generazione quindi questo spunto che dava Ermete che ci dovrebbe un po' spingere tutti di andare a vedere un po' i lati positivi e andare a migliorare quelli negativi ma non fossare quelli positivi è un punto importante l'altra parola che è girata l'hai detto anche te prima è il tema della visione ecco probabilmente è questo manca una visione comune di dove vogliamo andare questo poi si riflette nella lentezza della burocrazia anche il DL semplificazione che è uscito da poco poteva essere già un qualcosa però poteva essere un po' più ardito perché altrimenti quegli obiettivi che ci siamo posti col piano con il piano energetico con l'energia e il clima non li raggiungeremo mai come ha detto il collega Brun cioè se tu non se con un documento con una norma indichi certi obiettivi e poi non aiuti per raggiungerli ecco vuol dire che non si ha la stessa visione ecco questo è un tema che manca in Italia cioè molto spesso siamo avanti siamo all'avanguardia siamo intelligentissimi sappiamo cavarcela con poco però quando bisogna lavorare con visione e fare un lavoro di sistema ecco lì falliamo tema anche del sistema importante che poi si porta appresso il tema della filiera ecco il rischio qual è? il rischio è che noi andiamo a fare una transizione noi stiamo avanzando siamo molto avanti in questo prendo il settore nostro nella transizione energetica poi noi in particolare noi come azienda però dobbiamo anche renderci conto che questa transizione se non accompagnata da altre azioni che non possiamo fare noi ma che deve fare il sistema che deve fare le istituzioni che devono fare altri accanto a noi rischia di creare quello squilibrio sociale e economico e che poi potrebbe non determinare l'effettivo trasformazione perché è chiaro come faceva l'esempio giustamente Ermete prima di Trump Trump perché ha avuto vita facile andavi dai minatori del Minnesota dice guarda che volete non volete più carbone volete rinnovabili voi non mangerete sarete senza mangiare voi nella famiglia è chiaro che quelli pigliano e votano Trump poi l'avranno votato anche per altri motivi ecco la stessa cosa è difficile noi troviamo molta difficoltà anche nella trasformazione della mobilità elettrica è difficile andare in una filiera italiana che è molto importante come quella della costruzione di automotive dell'automotive del settore dell'automotive e dire vabbè adesso si abbiamo qualche piccolo problema tecnico che ci auguriamo di poter risolvere rapidamente intanto intanto che Massimo Bruno si ricollega io ne approfitto per introdurre anche una domanda che è arrivata poi appena Massimo torna ma con noi continueremo il dialogo è arrivata una domanda nella chat che abbiamo tenuto aperto su YouTube in questo momento ed è una domanda che in qualche modo anch'io condivido e quindi ho piacere di poterla fare ai nostri ospiti la domanda è che cosa suggeriscono i nostri ospiti appunto i nostri interlocutori come azioni per favorire un'educazione ad una vera green economy e non appunto un avanzamento di tante volte un fanatismo verde su questi temi il valore dell'educazione è emerso anche ieri nell'intervento appunto del professor Draghi è un tema che certamente ha a che fare con l'esperienza del meeting e di tutti i dialoghi del meeting quindi mi permetto di rivolgere a loro questa domanda che arriva da chi ci sta seguendo da casa lo faccio rompendo un po' le righe rispetto all'ordine e magari partendo proprio da da Brun rispetto a questo una battuta finale così per i pochi minuti che ci sono rimasti almeno possiamo approfittare anche su questo è una bellissima cosa perché ci riflettevo proprio ieri io ho la fortuna di essere al mare con la famiglia e mantenendo le distanze sentivo una discussione che stava avvenendo proprio non lontano da voi da noi tra due persone e questa persona diceva all'altra che a settembre grazie al 110% lui è a favore della transizione energetica a favore dell'energia verde metterà i pannelli solari sul tetto metterà gli accumuli nel frattempo che parlava in questo modo stava fumando la sigaretta cosa ha fatto ha buttato la sigaretta sulla spiaggia e lì l'ha lasciata ora proprio questo mi dà modo di dire se non capiamo eventi come questo sono sicuramente d'aiuto se non capiamo cosa significa fare il nostro dovere per proteggere il bene comune che deve essere il primo comandamento in questa direzione non si può parlare di transizione energetica senza pensare alla protezione del bene comune la natura è di tutti il mondo è di tutti e sarà dei nostri figli e sarà dei figli dei nostri figli se non ci impegniamo per capire quali sono le implicazioni per capire che dovremo tutti cambiare abitudini per capire che le aziende dovranno profondamente trasformarsi per capire che ci saranno dei costi da affrontare e per capire che dobbiamo per così dire aiutare aiutarci l'un l'altro io poi sono andato a questo signore e gli ho detto guardi faccia la cortesia di riprendere la sigaretta e di buttare in spiaggia perché è veramente è veramente brutto ecco se tutti facessimo la nostra parte un pezzettino tutti i giorni credo che l'educazione diverrebbe come dire un una condizione naturale perché tutti dovremmo capire quello che deve essere fatto grazie Ermete a questo punto a te la medesima domanda guarda io penso che molte cose sono cambiate che bisogna partire dalla realtà e poi ognuno deve fare il suo mestiere io per esempio mi auguro che continui la spinta della generazione greca chiamiamola così ma io ho sempre sostenuto che ha bisogno di risposte non di carezze cioè non è che gridare alla fine del mondo genera un processo di cambiamento e le risposte devono venire da chi è in grado in qualche maniera di metterle anche in campo perché a volte viene anche presa un po' in giro Greta è venuta a fare un ciolel discorso al Senato ha parlato tanta gente e quella settimana il Senato ha votato contro una risoluzione sugli impegni sui cambiamenti climatici quindi per capirci evitiamo di fare queste pose sono d'accordo con quello che diceva Vestrucci sull'importanza della radossi anche rispetto alla Coppa 21 di Parigi che c'era peraltro e io penso che la radossi sia forse la più lucida analisi economica di quello che è accaduto dopo il 2008 anche come ipotesi di soluzione queste soluzioni secondo me richiedono anche due fattori uno la responsabilità noi siamo abituati a cercare sempre qualcuno a cui dare la coppa e se possiamo dire che è colpa di qualcun altro abbiamo fatto il nostro mestiere c'è un problema partendo da quello che siamo che ripeto io non vivo negativamente ecco io penso che abbiamo tante cose in positivo ne parlavamo l'altro giorno con Dittatini e è un tema chiaro caro a Zamagni se entra in campo un ragionamento su un'economia misuratura solidaria molto da dire da questo punto di vista però c'è bisogno dell'esercizio della responsabilità che è una componente della sussidiarietà anche perché se poi bisogna fare le fonti rinuabili e tutti si oppongono a fare le fonti rinuabili anche con argomentazioni astruse adesso voglio fare un esempio che riguarda voi che siete a Rimini ma ti pare possibile Emanuele che sia sorto un fronte ampissimo contro un parco eolico all'arco della costa della Romagna ma insomma ragazzi siamo seri nel senso che sono cose ridicole bisogna farli bene bisogna farli belli ma bisogna farli cioè voi pensate che una sovrintendenza ha bloccato un parco eolico davanti all'Ilva per ragioni paesaggistiche mi chiedo diciamo se c'è uno dotato di raziocinio che può pensare che il problema paesaggistico lì è rappresentato dal parco eolico che fai a mare quindi c'è bisogno da un lato di questo esercizio della responsabilità che ha bisogno poi di nuovo lo diceva Bruno lo diceva Bruno di una visione comune io ho in mente una cosa come schema di gioco diciamo e poi metterlo in pratica non è semplice è la vicenda del discorso sulla luna di Kennedy Kennedy nel 62 o più di 50 anni fa no più di 50 anni fa poi nel 69 l'uomo è sceso è arrivato sulla luna fece un discorso che molti consideravano un po' da strofone porterò un americano sulla luna entro questo decennio di nuovo per citare una canzone molti pensavano a uno sposo impazzito oppure a bevuto nel senso che sembrava una cosa da politico italiano ecco mettiamola un po' così e invece ce l'hanno fatta anche prima della fine del decennio perché sono stati investiti risorse economiche risorse tecnologiche ma perché è andata in campo anche l'orgoglio e il carattere degli americani questa partita che è necessaria diciamo per il nostro futuro e che è necessaria anche per uscire dalla crisi del covid in avanti può essere affrontata se diciamo noi capiamo che è anche la partita che dà forza all'Europa e l'Italia perché se invece la vediamo con un doveressere che deve essere garantito da altri non ce la possiamo fare io penso che questa visione è una visione mobilitante però rappresentata così come una grande sfida a cui tutti devono partecipare grazie Ermeta intanto ci ha raggiunto nuovamente Massimo Bruno al quale darò la parola tra un attimo così conclude anche i lavori intanto lo aggiorno Massimo nel frattempo abbiamo riportato ai nostri ospiti anche una domanda che arrivava da casa come si dice ed era una domanda relativa al fatto di interrogare voi che siete appunto collegati su quale possa essere un'azione da fare per favorire un'educazione reale alla green economy che non sia fanatizzata e quindi Bruno e Ermeta hanno già risposto a questo chiederei appunto a Vestrucci una battuta finale su questo per ridare la parola a Massimo e concludere il suo raggiamento con dentro anche questa provocazione ma fondamentalmente condivido molto quello che hanno detto i due predecessori in particolare alcuni accenni di Ermeta e Realaci per restringere proprio l'aspetto educazione alla green economy all'aspetto aziendale per me è pensabile sono pensabili una serie di interventi dal top management delle aziende fino al bottom fino al livello dei lavoratori più di base è possibile pensare degli interventi che comincino a proporre le idee della sostenibilità integrale e a farli calare nella realtà nella realtà dell'azienda il top management per la vision la mission eccetera l'ufficio tecnico per l'ecodesign e così via fino a chi fa manutenzione a chi fa cioè abbiamo tantissimi strumenti per poter fare degli interventi e trasmettere dei metodi e degli strumenti l'importante è che ci sia un processo a mio parere top down che cominci da un convincimento e da una partecipazione ad un'adesione convinta del vertice aziendale questo è un problema educativo questo effettivamente è un problema educativo grazie allora la parola conclusiva a Massimo così che posso concludere anche il ragionamento che sta facendo con dentro anche questo ingrediente audio penso che eccolo perfetto mi sentite? sì perfetto grazie scusatemi per l'interruzione niente ho sentito anche la domanda rispondo immediatamente alla domanda perché questo a meno in aziende come la nostra già esiste cioè noi ormai è tutto sotto l'egida della sostenibilità gli investimenti non vengono fatti se non visti anche nell'ottica della sostenibilità poi come voi sapete nel 2019 noi abbiamo lanciato anche primi in mondo dei green bond legati al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 30 e quindi su questo ci crediamo sul tema di come fare perché non ci sia sia poi un estremismo verde o viceversa secondo me ritorno a quello che dicevo prima bisogna che ci sia una visione comune tra azienda e quindi management e tutto i propri collaboratori ma anche poi con l'esterno perché poi non è solo l'azienda ma ci dobbiamo confrontare con quello che è l'istituzione le istituzioni gli stakeholder locali le comunità locali ecco non sempre il concetto nostro di sostenibilità corrisponde a quello che hanno anche loro ecco in questo un pochino forse è un po' colpa anche nostra sta anche a noi spiegare meglio e non cercare questo lo dico a tutti i colleghi di abusare un po' della parola sostenibilità perché non vorrei che diventasse io vengo anch'io dal settore energetico petrolifero quando uscì la benzina verde tutti pensavano era verde ma perché era pulita no era verde perché era colorata in verde ma il piombo era lo stesso ecco di non usare un po' la parola sostenibilità in modo errato ecco dare contenuti e questo aspetta anche a noi a noi divulgatori a noi manager a gente come Ermete politici come Ermete a dare il giusto significato alla parola sostenibilità e ci devono aiutare persone come Ermete anche a dialogare con i stakeholders nostri di riferimento dalle associazioni ambientaliste ai comuni e trovare un punto un punto che sia poi raggiungibile per tutti di visione comune sempre per essere veloce di entrare nell'ora di tempo mi ero scritto altre due cose una l'aveva sempre detto giustamente Ermete sul tema del recovery fund allora dopo questo gravissima cosa che è accaduta del covid che ci ha trasformato e ci trasformerà sicuramente il modo di lavorare però c'è una grande opportunità forse la più grande opportunità però bisognerà saper utilizzare questi fondi anche io che partecipo come rappresentante della mia azienda nei vari tavoli ho qualche dubbio che ci sia un pochino di confusione mentre dovremmo cercare di anche qui di avere una visione di comune e di quello che si vuole veramente fare perché altrimenti perderemo tempo e quello che potremmo scaricare a tempo a terra investimenti che veramente servono sia alle comunità locali sia per raggiungere questi obiettivi di transizione rischiano di non essere messe in atto e questo è il vero problema speriamo che in questi ho visto che non è che negli altri paesi europei stiano meglio di noi a parte la Germania che è sempre avanti in queste cose ma gli altri paesi europei soprattutto quelli mediterrani stanno nelle nostre condizioni se non peggio però anche lì va fatto una grande opera di approfondimento trovare veramente i veri obiettivi e su quello spingere con tutto cercando anche di tagliare quella burocrazia che a volte blocca gli investimenti e dare però un occhio non solo a questo ma anche quello di poter speriamo ci sta tenendo sulle spine la conclusione dell'intervento di Massimo speriamo funzioni aspettiamo solo qualche istante no temo sia caduta purtroppo magari avremo occasione anzi sicuramente avremo occasione di tornare su questo grazie anche alla tecnologia che oggi ci dà la possibilità di non interrompere mai un dialogo è quello che faremo anche nei prossimi giorni perché continueremo come dicevo all'inizio di questo nostro appuntamento anche nelle prossime giornate del meeting che come ricordo hanno avuto l'abbrivio proprio nella giornata di ieri e si concluderanno domenica le mie non sono conclusioni perché appunto i temi aperti sono tanti sono profondi e sono estremamente interessanti anzi mi piacerebbe poter poi tornare anche con i nostri ospiti anche a valle del meeting lo potremo fare anche tra un meeting e l'altro avremo sicuramente la possibilità di poter continuare ad approfondire quello che è emerso che ripeto mi sembra particolarmente toccante sia particolarmente centrato anche rispetto alle provocazioni del titolo del meeting di quest'anno per chiudere e ringraziando anche i nostri ospiti ricordo che quello che avete visto comparire su tante pagine del sito del meeting o sull'app del meeting che è un piccolo cuore rosso rappresenta anche la possibilità di poter contribuire dare un contributo piccolo o grande che sia per il sostegno anche economico alla realizzazione di questa edizione del meeting che abbiamo voluto fare ne siamo contenti ma che certamente ha visto anche un impegno economico significativo io ringrazio appunto i nostri ospiti da Vestrucci che è qui in studio con noi Ermete Realacci e Brun che sono collegati e saluto ovviamente indifferita Massimo Bruno al quale lo potrò dire tra qualche istante quando ci risentiremo ma sono convinto appunto che saluti anche lui tutti quanti grazie ancora buona serata grazie a voi grazie a tutti da 170 anni noi di Cassa Depositi e Prestiti investiamo il risparmio degli italiani nel domani del paese noi di Cassa Depositi e Prestiti siamo con l'Italia oggi più che mai ehi impara dal passato decidi dove andare apri quella porta accendi il tuo motore allaccia la cintura stringiti al volante e vieni via con me e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti